Approvato il piano d'azione per la gestione del cinghiale nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Il piano prevede che nell'ambito delle strategie da porre in essere per il controllo numerico degli ungulati sia potenziata l'attività di prelievo selettivo mediante abbattimenti selettivi operati da personale appositamente formato. Già in passato sono stati formati dall'ente con apposito corso di formazione e abilitazione circa 240 selettori che si sono aggiunti ai selettori già abilitati nelle precedenti edizioni del corso di abilitazione svoltesi negli anni 2008 e 2011. L'intensa attività svolta dai selettori ha sortito effetti positivi consentendo di acquisire indicazioni utilissime riguardo la possibilità di controllo della crescita popolazionistica del cinghiale ed ottenendo già risultati considerevoli al riguardo. Per questo motivo e per far fronte ad una crescita sempre più esponenziale della popolazione degli ungulati si è stabilito di ottimizzare i risultati nella strategia del controllo numerico degli ungulati mediante la formazione e l'abilitazione di nuovi 150 selettori. Possono presentare domanda di ammissione al corso tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti. Residenza anagrafica alla data di pubblicazione del presente avviso in uno dei comuni del parco. Possesso di regolare portodarmi d'assicurazione obbligatoria da almeno due anni. Regolare iscrizione all'ATC Salerno da almeno due anni. Non aver riportato condanne penali per reati riconducibili all'attività venatoria né aver fatto ricorso al beneficio. Non essere stato oggetto negli ultimi cinque anni di sanzioni amministrative riguardanti l'attività venatoria. Essere in possesso di certificato di buona salute rilasciato dal medico generico. Saranno ammessi a frequentare le attività didattiche previste dal corso e a sostenere le prove finali. Un numero pari a 300 candidati assicurando in ogni caso la partecipazione ai candidati ex equo con l'ultimo candidato ammesso. Nel caso di domande superiori a 300 l'ente parco procederà a una prova di preselezione. Al termine del percorso formativo saranno effettuate delle prove finali per acquisire l'idonietà a sele controllore tra cui una prova pratica di tiro. Nella prima fase saranno attivati e resi operativi i primi 150 candidati utilmente collocati in graduatoria. La graduatoria resterà valida per gli eventuali scorrimenti che si renderanno necessari per rinuncia, sostituzione e decadenza dei selettori operativi sul territorio del parco. La richiesta di partecipazione al corso di formazione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la compilazione dell'apposita modulistica predisposta dall'ente parco e scaricabile sul sito web dell'ente www.cilentoediano.it al modulo di cui innanzi deve essere allegata la documentazione di seguito indicata. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'ente parco entro e non oltre le ore 14 del giorno 21 giugno 2021 mediante una delle seguenti modalità. A mezzo PEC posta elettronica certificata all'indirizzo parco.cilentoedianoialburni.it raccomandata indirizzata all'ente parco nazionale del Cilento vallo di Dianoialburni via Palumbo 18 codice di avviamento postale 84078 vallo della Lucania. Consegni a mano presso l'ufficio protocollo dell'ente nazionale del Cilento vallo di Dianoialburni a vallo della Lucania. La documentazione dovrà pervenire completa dei seguenti documenti domanda di partecipazione debitamente compilata, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, copia del porto d'armi in corso di validità e fotocopia della quietanza dell'assicurazione obbligatoria, copia del casellario giudiziario del certificato dei carichi pendenti, certificato medico di buona salute in carta semplice.